Eccoci qui, allora di nuovo insieme, il Bayern, caro il mio Michele Borrelli, fa sul serio. Ah sì, fa sul serio. Dai, facciamo sul serio ragazzi, facciamo sul serio. Non lo so, tu di fronte all'ipotesi, no, spieghiamo cosa sta succedendo. No, infatti ricostruiamo prima. C'è stato un primo interessamento del Bayern per Cialanoglu, che sarebbe stato rispedito al mittente. Però il Bayern, insomma, vuole provare a rintuzzare la richiesta. Si parla di qualcosa tra i 50 e i 60 milioni, quadriennale da 8 milioni di euro all'anno al giocatore, che ricordiamole, è nato in Germania, lui è turco, ma è nato in Germania Mannheim, è cresciuto calcisticamente in Germania, è l'ultimo club di Leverkusen, poi il Milan e poi naturalmente l'Inter. Ma sei da 0 a 10 quanto sei preoccupato? Allora, io intanto da 0 a 10 sono preoccupato 6 e mezzo, dai, 6 e mezzo. Però pensavo che nel borrellismo mi rivicessi due, un e mezzo. Ieri sera abbiamo cercato di fare delle verifiche, di capire, perché ieri sera tra Bild e colleghi turchi l'avevano quasi impacchettato e mandato al Bayern Monaco. Poi cercando di capire un po', come la stavi anche tu ricostruendo, sembra che il Bayern Monaco abbia fatto questo sondaggio già qualche settimana fa e che si è saputo ieri. Perché? Perché il Bayern Monaco è un anno che insegue Paligna. Oggi, ironia della sorte, Paligna del Fulham. Ironia della sorte, oggi Portogallo-Turchia, i due mediani erano nel Portogallo-Paligna e nella Turchia-Chalanoglu. Paligna del Fulham, 35. No. 40. No. 45. No. Sembra che il Bayern si sia stancato, diceva tu sei al Fulham. Ma chi è sto Paligna? Ma meno male. È il centrale del Portogallo, il medianone del Portogallo. E il Bayern Monaco lo vuole fortemente. È un classe 95, ha buoni numeri, però non gioca nel Fulham la Champions. Però il Fulham, le società di Premier, riescono a tratterire. Allora il Bayern Monaco è passato... Con tutto il rispetto per Paligna, il Bayern Monaco ha il piano di Cialanoglu. È passato al piano B. Ci mancherà... Cialanoglu è il piano B a Paligna. Lo seguono dall'anno scorso, fino all'ultimo giorno di mercato l'anno scorso e hanno ricominciato quest'anno. Memori del fatto che l'anno scorso è andato a finire male, hanno detto o lo prendiamo a giugno Paligna oppure cambiamo obiettivo. Il secondo obiettivo sarebbe proprio Cialanoglu. Allora, parlando con l'Inter, tra l'altro i rapporti sono ottimi. L'Inter ha preso Sommer, ha preso Pavard, Marotta e molto amico del dirigente del Bayern Monaco l'anno scorso. Poi c'è anche un po' Rummenigge a fare data. Sì, tra l'altro. Però il punto qual è? La risposta dell'Inter, la prima risposta, non si è arrivati a cifre. Le cifre le hanno scritti questi siti turchi ieri dicendo che se per Paligna sono arrivati a 46, l'Inter può chiedere 60, è una grande plusvalenza, poi magari a 50 si chiude l'operazione. Ma da quello che mi risulta, che ho cercato di costruire, quando il Bayern Monaco ha chiesto all'Inter, la risposta è stata che è un giocatore che nello scacchiere nostro, nello scacchiere di Inzaghi, è indispensabile. Quindi il Bayern Monaco in questo momento non ha fatto un'offerta ufficiale. Però siamo ancora a giugno. C'è Aslani tanto. Ho capito Aslani. Aslani ha 22 anni, Cialanoglu è diventato regista a 28, Brozovic stesso a 26. Quindi non è che oggi Aslani pronti via gli dà le chiavi dell'Inter, secondo me non è ancora pronto. Quindi per l'Inter è un perno Cialanoglu, è un leader, è un giocatore fondamentale nell'ingranaggio. Quindi l'Inter cosa dice? Indispensabile non è incedibile. Cioè sono due parole diverse. Che significa? Che se tu mi vieni a corteggiare o a voler prendere un indispensabile che ha un contratto lungo, mi devi veramente fare un'offerta pazza. Barella per intenderci. Un'offerta veramente... No, dico l'indispensabile con contratto lungo, Barella. No, no, io dico Cialanoglu sempre. No, ok. Quindi devi fare un'offerta. Che significa un'offerta pazza? Secondo me è quella che scrivevano i colleghi turchi intorno ai 60. 60 milioni. O anche qualcosa di più. La farà? Il Bayern Monaco se vuole la fa. Sta trattando l'Isee adesso che è un esterno destro per 60-70 milioni. Sempre dalla Premier. Quindi il Bayern Monaco se vuole la fa. Però il giocatore ha 30 anni, guadagna 6 milioni e mezzo, quindi non è che tu vai a corteggiare. Per esempio l'anno scorso quando hanno attaccato Tonali, attaccato tra virgolette, è facile convincere uno che guadagna 2 o 3 e lo porti a 8. E come fa a dire di no? Qua da 6 e mezzo, quanto gli offri? Certo, proprio la Germania, come dicevi tu, è il paese di Cialanoglu. È nato. C'è una forte comunità turca. Lui però l'ultima volta che ha parlato Cialanoglu ha detto io sono così grato all'Inter che decide l'Inter. Per qualsiasi offerta. L'anno scorso è arrivata l'Arabia, ma anche adesso gli stanno rioffrendo 20 milioni all'anno. Lui non vuole andare in Arabia. Cialanoglu l'ultima volta che ha parlato ha detto io per me sto bene all'Inter. Se l'Inter però deciderà per fare cassa, perché arriva l'offerta conveniente di vendermi, vediamo chi arriva e squadra arriva. Secondo me la vicenda potrebbe anche non essere chiusa qua. Perché il Bayern Monaco potrebbe tornare all'attacco. Matteo Mosconi spera nel Bayern Monaco? Io spero nel Bayern Monaco, sono curioso di vedere la clamorosa fede nerazzurra di Cialanoglu, questo grandissimo tifoso dell'Inter. Vediamo di fronte a un'offerta importante se viene fuori. Tutto vero quello che hai detto, sono d'accordissimo. Però insomma credo che tra Bayern e Inter ci sia un po' di differenza anche a livello europeo. Lo dicevano anche a Pavard l'anno scorso, dicevano come fai ad andare all'Inter, tu sei al Bayern Monaco. Io dicevano io voglio giocare centrale, voglio giocare in Italia, voglio fare una nuova esperienza. No però dico a livello di progetto, a livello di ambizione anche a livello europeo. Il Bayern distanti pure 11 campionati consecutivi. Posso dire una cosa o no? Ti sto dicendo che secondo me il Bayern Monaco a livello europeo, è più forte dell'Inter, quindi ha più possibilità di andare avanti in Champions League. Secondo me ci punta un po' su questa cosa qua. Insomma, se hai fatto la bocca buona con la finale con il Manchester City, rifare una finale o comunque giocarsi determinate partite potrebbe essere una cosa che lo intrigherebbe molto. Quindi io mi auguro che i nostri tedesconi, amici tedesconi, facciano vedere che hanno il money, no? La grana. Marcello, se l'Inter perde ce l'ha, no, glu è tosta. Cioè è una perdita importante onestamente. Però tanto io ribadisco che qua dentro è stato detto che Aslani è un gran giocatore. Qua dentro è stato detto che Aslani è un gran giocatore. Un ottimo giovane. Non so se poi le chiavi verrebbero affidate ad Aslani o verrebbe scelto un altro profilo. Adesso è trovare un'altra soluzione. L'altro giorno ha fatto una bella partita a Aslani. Con l'Albanismo. Però c'è l'anoglo in questo momento, no? C'è l'anoglo a livello alto. Non penso che l'Inter se ne priverà. A meno che, a meno che, lui avendo visto, me l'avevo detto una sera, quando abbiamo fatto il rinnovo di... Ti ha firmato? Lautaro, non è ufficiale ma è ufficioso. Vabbè, è in Coppa America adesso. Vabbè, comunque adesso è via. Quando c'è stata la notizia del rinnovo, aveva accettato i 9 milioni, quindi che diventava lui il più pagato dell'Inter, io feci l'osservato, forse c'era anche il Mr. Borrell. Mi disse, adesso vedrai che arriverà Cianogo, che era quello che era più pagato, a dire, è io, è io. Magari lui non te lo dice, è io, però dice, ma c'è il Bayer Monaco, c'è anche il suo procuratore, c'è il Bayer Monaco. E allora... Ha rinnovato l'anno scorso, c'era no? Non c'entra niente, ha rinnovato l'anno scorso. Contratto l'uno. Se vogliono ancora rinnovare ancora e fare incrementare, si può. Quindi vedrai che magari ti dice, io non ti sto chiedendo niente, ma c'è il Bayer Monaco. No, per l'altro perché ha rinnovato Lautaro, ha rinnovato Barella. Lui ha rinnovato prima di Barella e Lautaro. Eh, ok, però... Lui e Bastoni sono stati i primi. I primi sono stati i primi. Sei e mezzo. Ma sai com'è lì? Eh, però se il Bayer le mette 8 e mezzo, mi migliora l'anno scorso. La stessa cosa è per l'Ipa, cioè tu sei il più pagato. Improvvisamente vedi che questi battono casse e ottengono, tu dici, oh ma io sono Cianoglu. C'ho il Bayer Monaco, come dice lui. Non è che mi sta bussando alla porta il Magenta, il Magenta. Infatti io, Marcelli, ho detto l'ultima volta che... Ah, tratto, scusate, io... Scusate, no, devo fare una piccola cosa, velocissima al volo. Avevo una promessa e devo mantenerla. Devo salutare la signora Lucina. Un abbraccio, che è la mamma del mister del Magenta. Dovevo fare... No, scusate, eh, mi sono dimenticato a inizio trasmissione lo devo fare. Pensavo avesse qualcosa che spartire con Cianoglu. Va bene, va bene. Raffaella, fa bene il tifoso interista essere preoccupato, i tifosi interisti fanno bene essere preoccupati per l'eventuale assalto del Bayer Monaco, non solo per la portata dell'offerta, ma anche perché magari Cianoglu potrebbe farsi tentare in qualche modo. Beh, è difficile dire di nuovo una offerta del genere, però diciamo che l'Inter, se vuole complicarsi la vita, può sicuramente cedere Cianoglu. Quindi io mi augurerei, insomma, per loro che riescano a rifiutare questa offerta e a ripartire i loro rinnovi. No, Raffaella, no, ma non auguriamocelo, ma cosa ci dobbiamo augurare? Come? Come? Ma tu devi competere per lo Scudetto, ti auguri che l'Inter non venda Cianoglu, ma come? Bisogna sperare che l'Inter venda Cianoglu. Io mi metto nei loro panni, io mi metto nei loro panni. Ma no, ma lascia lì, non sono comodi, non sono comodi, lascia stare quei panni. Esatto, esatto, lascia stare, ma lei l'azzurro già ce l'ha, un po' di nero è più facile per voi che non avete in comune il nero e l'azzurro. Io la giuro, l'associo soltanto al bianco, sinceramente, però vedo le cose dal punto di vista esterno e quindi penso che non è assolutamente nell'interesse dell'Inter quello di privarsi di un giocatore come lui. D'altronde ha dimostrato già con i rinnovi di Barella e di Lautaro Martinez che vuole ripartire da alcuni punti fissi. La vedo proprio complicata decidere di privarsi di Cianoglu. Non credo, sinceramente, credo che deve soltanto cercare di perfezionarsi in qualche modo, magari anche con l'arrivo di Gelischi. Ma sinceramente non credo che possa andare tanto oltre. L'Inter ha già dimostrato di essere una squadra molto solida. Sarà più bello affrontarla per tutte le squadre che punteranno allo scelto. Allora, noi abbiamo sempre detto che in Serie A, di fronte a determinate offerte, è impossibile dire di no. Si dice che quando arrivano i 100 milioni è impossibile dire di no. Adesso io non voglio dire 100 perché stiamo parlando di un giocatore preso a parametro zero, quindi è tutta plus valenza. Marotta dice sempre che i giocatori scontenti non vanno trattenuti. Certo, devi portare l'offerta giusta. Però per esempio, quest'arrivo di Gelischi, ti faccio anche un assist, credo Francesco, dicendo adesso questo. Lo stesso Frattesi, che tramite il suo agente dice che vuole giocare di più. Tra un attimo. Tra un attimo. Ma quanto vale? Aspetta, fammi finire la frase. No, lo so sapere, il valore dice la no, l'offerta perciò la no giusta. Questa è una domanda che ci possiamo porre. Io chiedo a 60. 60 dai. Siedo a lui, il massimo esperto di l'interno. Secondo me se gli offrono 60, il giocatore però deve fare così poco. Un trentenne che guadagna tanto e che è arrivato a zero. Certo, devi avere un sostituto. Ricorda che Cialanoglu faceva la mezzala quando è arrivato all'Inter. Diventa regista con i zaghi perché Brozovic si fa male. È vero che le ciambelle non vengono sempre col buco, però tra Barello e Gelischi, secondo me ci sono anche giocatori nella rosa oggi che possono diventare registi. Come Cialanoglu si pensava non potesse essere. Non è così scontato che tu vai a prendere uno che fa la mezzala. Però nell'Italia, per esempio, Barella sta facendo vedere di avere doti di... E Frattesi, vuoi liberare il posto a Frattesi che dietro Barella gioca poco. Però io non credo che il Barella dell'Inter che rende così bene... L'Inter voglia, tra virlette, tentare un ruolo che non è su. L'Inter vuole vedere Cialanoglu. Auxilio ha detto che dobbiamo toccare il meno possibile. Però se il giocatore ti dice che voglio andare perché mi offrono di più, perché voglio cambiare aria, a quel punto l'Inter dice semplicemente portami l'offerta. Ad oggi Cialanoglu non ha detto che voglio andare, ad oggi il Bayern non ha fatto un'offerta. Stiamo parlando di sondaggi. Abbiamo detto che la seconda scelta teoricamente... Quindi magari Paligna domani il Fulham apre per Paligna e finisce la storia. Anche perché parliamo alla fine c'è un anno di differenza. Un anno di differenza tra i due. Ma poi secondo me invece il discorso Champions, perché l'Inter la diamo già un po' per... No, no, infatti Lautaro, Marotta, parlano tutti di ambire a fare strade in Champions. Non penso che... Sì, vabbè, ok, lo scudetto, l'anno è detto che... Però ragione Matteo che il Bayern Monaco ha un altro potenziale. Sì, ha un piano in Europa che è decisamente molto più forte. Anche un altro fatturato. Ma no, è normale. Allora, nel monte ingaggi del Bayern Monaco, l'Inter ha Lautaro 9, Cialanoglu 6,5, Barella 6,5. Ieri andavo a vedere, proprio per capire se ci possono essere anche possibili giocatori che possono interessare all'Inter in uno scambio. C'è Kane che guadagna 13, Müller 10. Cioè al Bayern parti da quelle cifre. È impensabile quello, quello assolutamente impensabile. Ecco, loro per esempio hanno Kim, che oggi non so se con Company rientra nel progetto. Kim è scontento al Bayern se non gioca. Non gioca, non gioca. E Kim, prima di andare al Napoli, era un giocatore che a ausilio piaceva tanto. Però adesso stiamo fantasticando. Ad oggi non c'è un'offerta per Cialanoglu e il giocatore non ha detto voglio andare via. Attenzione però, perché è una situazione che va tenuta sotto controllo. Va tenuta sotto controllo. Lui non ti dice, ma ti dice. Se non lo dice, l'Inter se lo tiene. Dottor Maró, presidente, c'è il Bayern. Presidente, c'è il Bayern. Così, Sibillino fa Cialanoglu. Eh sì, senza insistere. Gli butta lì là. E lì dice, come va? Come va Cialan? Bene, presidente, c'è il Bayern. Così. Non gli risponde neanche bene, grazie a lei. No, c'è il Bayern. C'è il Bayern. Basta. Vabbè. Vedremo se... E dice, l'anno scorso hai firmato, è un contratto lungo. Giove. Ci ricordi, presidente? Quando si allontana nel parcheggio. C'è il Bayern. Così. Vedremo se continuerà a ripetere c'è il Bayern, c'è il Bayern o meno. Va bene. Diamo due minuti nella linea della regia. L'altra grana in casa Inter. A parte c'è la Noglu, perché comunque è una situazione che va tenuta sotto controllo. Riguarda Frattesi, perché ci sono cose da spiegare anche su di lui. E poi c'è Dumfries, che è vero, giura amore all'Inter, ma il contratto ancora non lo firma e ha già rimandato tutto a dopo l'europeo, tra un atto. Allora, di nuovo insieme, altre due questioni in particolare, quelle di Frattesi e quelle di Dumfries. Se Dumfries oggi, insomma per l'ennesima volta, ogni volta che se ne parla, intanto fa sorridere Dumfries, perché dice no, perché l'Inter ha cambiato proprietà. Perché prima avevano problemi economici, adesso, cioè, no? Non ha ben presente. Proprio ha buttato sul piatto tutti i fatti privati dell'Inter, dicendo chiaramente che con Zang c'erano dei problemi economici che adesso, evidentemente, con Oktri potrebbero non esserci più. E dice che vuole rinnovare, ma se ne parlerà dopo l'europeo. Dumfries, controllo di scadenza nel 25, l'Inter ha anche una certa fretta per capire, insomma, se monetizzare, chi andare a prendere, insomma, va. Frattesi. Sì. E noi l'abbiamo messo nella formazione Roma. Giocatore, insomma, Barella... C'è stato anche un sondaggio di quelli là. Adesso lui te lo... Guarda cosa c'ha dietro. Guarda cosa c'ha dietro. Sparito, avevi ciala dietro. C'aveva ciala. Stava già dicendo c'è il Bayern. Eh, ma c'è il Bayern. Si avvicinava Borrelli a dirgli scusa c'è il Bayern. No, però la Roma è stata una deduzione, diciamo, di colleghi romani, perché alla Roma piace. La Roma lo provava a prendere anche l'anno scorso, aveva una percentuale sulla cessione del Sassuolo perché ce l'ha avuto nelle giovanili. Invece la Juventus ha provato a capire se c'era margine e ha trovato la porta chiusa, doppia mandata. Come secondo me la troverebbe l'Inter se vada la Juventus per Chiesa in questo momento, anche se è un solo anno di contratto. Chiesa non lo so perché mi sembra che... però Frattesi è un bel giocatore, veramente. Eh, però Frattesi nasce da questa dichiarazione del suo agente che è uscito dalla sede dell'Inter due giorni fa. Bepperiso. Sì, Bepperiso. Se pensavamo tutti fosse andato per parlare di Oristani o di Giovani, eccetera, mentre lui dice no, no, tutto a posto Valentin Carboni, noi abbiamo parlato di Frattesi, ma perché Frattesi? No, no, non di mercato. E chiude in modo sibillino, allora la deduzione di tutti si è scritto, se non hanno parlato di mercato hanno parlato di Frattesi, vuole giocare di più. Cioè la polemica è sul minutaggio. In realtà il giocatore dall'inizio dell'anno continua a dire io, Barelli e Michiiteri hanno da cui imparare, io no, però certo il procuratore non è che possiamo far finta che non si senta col suo assistito. Quindi che Frattesi scalpiti per avere più spazio, è umano, è normale, è un giocatore forte, ha segnato sei gol, ha una media solo in campionato, ha una media gol di ogni partita e mezzo gol. E il retroscena quale sarebbe a questo punto? Cioè perché è venuto fuori il nome di Frattesi? Il retroscena è che Riso, parlando di Oristanio con il direttore sportivo dell'Inter, è andato a parlare con il Venezia, con il direttore del Venezia, perché al Venezia va Di Francesco e loro hanno scelto il Venezia come destinazione ideale per il ragazzo, ma l'Inter lo stava dando al Genoa per prendere Martinez e quindi non erano d'accordo su questo. Allora magari uno pressa per farlo andare al Genoa, l'altro dice no no voglio andare al Venezia, vabbè ci lasciamo che non abbiamo trovato la soluzione, io ti metto in mezzo pure che ti faccio venire fuori la polemica su un altro giocatore. Magari sono piccole logiche a cui il tifoso non sta dietro, però oggi voglio dire gli agenti non giocano solo su un tavolo. No ci sta, ci sta, gongolava Mosconi a sentire. No perché è venuta una cosa intelligente da dire, cioè io mi auguro che Frattesi vada alla Roma in modo tale che gli possa tornare il sorriso. Ho capito, ma la Roma come diceva Marcello, la battuta è simpatica, ma 40 milioni. Guarda Raffaella, guarda Raffaella sta povera ragazza, guarda, è disperata, è disperata. Però io ho visto un accenno di risata, bofa, sul tuo volto, quindi stavi per rito. Sul mio non credo proprio, guarda. Ma posso dire un'ultima cosa? Raffaella cosa facciamo? Ce lo teniamo o lo possiamo congedare con un'ora e mezza d'anticipo? Che dici? Scegli tu, al tuo buon cuore. Scegli tu, al tuo buon cuore, dai, a tutti i buoni. Facciamo finta di non aver sentito, dai. Esatto, esatto, andiamo oltre. Volevo aggiungere un'ultima considerazione, allora una positiva e una negativa. Mariso è Mario? Questa me l'ha aspettato. Non è Mario. Questa è peggio di prima. Ho detto, ma Riso è Mario? No, Mario Riso fa il nostro opinionista e è bravissimo. Ciao Mario, è un grande. Beppe Riso è il procuratore. Guarda che, no, ma perché Mario è un imbucone, eh? Lo che si imbuca, fa... Beh, ho capito, ma Mario Riso, tifoso intervista, non metterebbe mai tizzania tra Frattesi e l'Inter, scusa. No, allora, no, per chiudere il cerchio. Allora, la cosa positiva per Frattesi è che quest'anno si giocherà la Champions come se fosse un mini campionato. Quindi non è che Barella può giocare domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, domenica, mercoledì. Serviranno alternative ad altissimo livello. Quindi lo spazio credo che ci sarà per tutti. Però, dall'altro lato, oggi Frattesi all'Inter era il primo sostituto a centrocampo per le mezzeali, che erano due. Classe in essensi non hanno giocato praticamente mai. Quindi o mancava Michidere o mancava Barella, che non mancavano quasi mai, ma per due posti c'era Frattesi. Con l'arrivo di Zelischi, lui va solo nella casella di Barella, non è che ci sono altre possibilità. Quindi se gioca a Barella, Frattesi non gioca. Quindi diciamo che non è proprio una situazione, vedendola dal suo punto di vista, ideale. Perché Frattesi, secondo me, in Serie A giocherebbe titolare dalle altre parti. Immagino di sì. Diamo un'occhiata anche alla formazione di mercato dell'Inter per capire come si può in questo momento schierare la squadra nera-azzura. La cosa che emerge è che l'impianto base è quello dell'anno scorso, con l'aggiunta di Zelischi, di Taremi. Poi, certo, si può andare a perfezionare, c'è da capire Dunfrid cosa fa. Ndoye è quello individuato. Pandoi, tra l'altro, l'ho visto giocare in Ola Nazionale, gioca a prima punta. Se prendesse Gudmundsson a condizione che parta Arnautovic diventa un attacco decisamente ben composito. Insomma, credo che sia da dare come la favorita ancora una volta, no? Ma beh, non aveva poco da fare, dai, l'Inter, obiettivamente. A meno che non ci prendano già. Cioè, se va via Dunfrid, se lo devi sostituire. Poi vengo in studio. Cioè, se va Dunfrid, se lo devi sostituire, ma per il resto, dopo che hai fatto già Zelischi e Taremi, Vai, Raffaele. Ah, scusa. Non ho capito. Dimentichiamo che è abbastanza stagionato, quindi non è che è proprio questa prima scelta alternativa a Lautaro. Però, diciamo che per adesso l'Inter non ha tanto bisogno. Poi, certo, la carta frattesi sarebbe comico vedere che all'ultima ora va alla diretta concorrente, però non credo che l'Inter, sinceramente, potrebbe mai cederlo. Dunfrid mi fa ridere perché dice, l'Inter è casa mia, voglio rinnovare, poi non rinnova, quindi si deve anche capire cosa ha in testa. Credo che l'unico vero cambio qui sia Zelischi, cioè l'unico che può veramente fare un pochino una differenza e può sicuramente rinforzare quella parte di centrocampo. Io sono abbastanza affezionata a Zelischi come calciatore. Credo che sia una persona molto seria, un professionista molto serio e sia un giocatore che quando è al top della forma fa veramente la differenza. Quindi credo che per lui ci sia ancora un bel futuro all'interno. Anche perché viene da dire in maniera un po' perfida dopo che si è riposato per un anno a Napoli ha energie da spendere a Milano, ecco. Quest'anno si sono riposati tutti a Napoli, quindi hanno fatto una vacanza pagata e ahimè noi scontiamo ancora con le lacrime, però lasciamo stare. Anche la Polonia ieri è praticamente eliminata, quindi sia Zelischi che Taremi saranno in ritiro da quasi l'inizio. Taremi sicuro dall'inizio, Zelischi qualche giorno dopo. L'Inter, Marianna, come la vedi? Allora, vabbè, intanto scusa da sottolineare che voi c'è la Noglu, l'avete tenuto lì fisso, quindi senza nessuna parentesi, quindi vedi che si è vicino alla teoria di Michele. C'è il Bayern. Non c'era il Bayern, non c'è il Bayern. Diciamo i giocatori che... Ad oggi è dell'Inter, eh? Ad oggi è dell'Inter. Ad oggi è dell'Inter, assolutamente sì. Infatti, quindi vedi, su carta rimane. L'avete tenuto dove? In grafica. In grafica, senza parentesi, senza nulla, vedi? Marcello! No, comunque adesso partendo. Vabbè, non c'è... è tardi per Marcello. Vabbè, 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 vabbè. Comunque, vabbè. No, io sarei molto curiosa di vedere Taremi, perché appunto è un nome che si spende per l'Inter veramente da tanto, tanto tempo. E poi, personalmente, io continuo a sostenere che quest'anno sia la squadra assieme al Napoli. Veramente le due candidate per... Cioè, tu il Napoli lo riposizioni direttamente in ordine da scudetto? Sì, sì, io l'ho detto già prima, quindi infatti non mi contraddico su questo. Mariana è stata una ragazza molto obiettiva e competente. Grazie. Grazie. È reciproco, Raffaella. No, e comunque... No, invece volevo chiedere a Michele, è la situazione del portiere? Eh sì, su Martinez sembrava trovato l'accordo con Oristanio, ma appunto Oristanio... E nasce da lì, credo, tutta la questione. Cioè, si è un po' raffreddata questa pista, ma perché... No, non è raffreddata, perché tutte e due le società vogliono concludere l'operazione, perché l'Inter aveva il piano A, era Bento, però Bento è andato in Coppa America, ha giocato a marzo nel Brasile, ha giocato bene, da 20 milioni che erano sono andati oltre, e l'Inter non va a pagare adesso un portiere, per quanto possa essere bravo, più di 20 milioni. Quindi lasciamo aperte anche le altre piste nel caso in cui, non so, Bento forza la mano con l'Atletico-Paranense, ma non c'è aria, e quindi Martinez era un altro dei portieri seguiti, piace. La valutazione complessiva ormai è stata fatta, è 15 milioni, però per l'Inter non erano 15 cash. Quindi c'è questo tipo di situazione di nodo, oristaneo, tra Genoa e Venezia, finché non si risolve quello... Adesso sembra che si possano risedere al tavolo in settimana con un'altra contropartita, però Satriano è saltata perché il Genoa è pieno di attaccanti, da Gudmundsson-Vitigna, Ecuban, Gudmundsson-Retegui. Quindi ci potrebbe essere Zanotti, che ha fatto una buona stagione in Svizzera, e il persino adesso dell'Under 21, dell'Italia Under 21. Famosissima. Ma chi è? Non seguite l'Under 21? E Zanetti con una vocale... Bisogna guardare l'Under 21, Zanotti. C'è Zanotti, c'è Francesco Pio Esposito sempre nell'Under... Pio Esposito! Ma chi non conosce Pio Esposito? C'è anche il Torino che si è iscritto alla corsa per Francesco Pio Esposito. C'è Cagliari, in Torino... E' una felicissima Mariana di questa cosa, eh. Sì, no. E' un fenomeno incredibile. Pio Esposito. Francesco Pio Esposito, un fenomeno. Se nel 2005 ti fanno giocare nell'Under 21 a 18 anni, forse sei... Ma Yamano gioca a titolare, nella spagna, c'è 16 anni... Ma l'Under 21 chi c'è la fila? No, lo posso paragonare, perché Yamano vale 200, Francesco Pio Esposito ne va a 7-8. Ah, ok, ok. Vabbè, 7-8 va bene, siamo 30. No, ma sto dicendo che il Genoa, Francesco Pio Esposito, visto che le punte ce l'ha, pure lui non sarà la contropartita giusta. Però tra i vari giovani proveranno a capire come inserire un altro, perché l'Inter non vuole fare l'operazione solo cash. Certo. Però Martinez piace, quindi secondo me il Genoa sta guardando portieri, non solo in Italia, anche all'estero, quindi è entrata nell'ottica delle idee di cedere proprio lui. E Joseph Martinez è considerato un portiere che nel giro di un anno può diventare il titolare all'Inter. Non lo prendono per fare il vice. L'idea è esattamente quella, fare il vice Sommer quest'anno e poi dargli la porta da titolare l'anno prossimo. Però non il vice come l'ha fatto Odero con quattro presenze in un anno, cioè farebbe già quest'anno una ventina di presenze stile Perin con Cesni. C'è una stagione in cui fa una ventina di partite. Fa la Coppa Italia, insomma. O Buffon-Cesni. Fa la Coppa Italia. Eh, anche qualcosa in più. Eh, cosa? No, nel senso qualche partita in campionato. Qualche partita in campionato contro il Venezia gioca a Martinez. Con il Venezia. Cioè con le squadre di Menevassa classifica gioca a Martinez. Sarebbe anche il rischio di un frattesi. Cioè quando tu dici si intervalla con Barella, però sai, se io sono frattesi e gioco con tutto rispetto, con squadre di Menevassa classifica e poi la partita di Champions League gioca quell'altro... No, però non credo sia il discorso di guardare solo il campionato se giochi con una di Menevassa classifica. Come diceva giustamente Michele prima, l'Inter dovrebbe giocare ipoteticamente domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, effettivamente non stai tanto a guardare il calendario del campionato che hai. Però se hai magari in Champions è ovvio che Barella... Se hai derby, Real Madrid... No, no, certo, gioca sempre Barella. Gioca sempre Barella. Sì, però credo che Frattesi lo possa usare anche in maniera un po' diverso. No, però la differenza con Barella è che Sommer inizia a avere quest'anno e compira 36 anni. Allora Martinez viene preso per poi diventare il primo. Lui che era andato all'Ipsia, era ritenuto comunque un giocatore in grande ascesa, all'Ipsia invece non ha giocato. Poi è andato al Geno, al Geno era in ballottaggio in serie B, si conquista il posto, quest'anno fa bene in serie A, ti chiama l'Inter, gli danno un milione e mezzo di base, va con grandissimo entusiasmo. Quindi non è nelle condizioni di dire, ah però vengo il primo anno titolare inamovibile. Tra l'altro su Sommer invece, Sommer è uno molto competitivo e ha la concorrenza di Koberg nella Svizzera. Adesso gli europei se li fa lui, ma lui vorrà fare pure i mondiali secondo me. Quindi quest'anno non ci saranno grandi problemi. Mondiale per club. Come? Mondiale per club. Non ho il mondiale proprio con la Svizzera nel 2026. E non lo so, però Sommer ci tiene ovviamente la nazionale. Quindi secondo me quest'anno la convivenza sarà pacifica. Vabbè, l'anno prossimo lo vendi, lui va a giocare titolare e tu prenderà un vice. Ma l'Inter finisce pure il contratto a un'opzione con Sommer. Però voglio dire che dopo invece nell'estate 2025 c'è la prossima, lì bisognerà capire se Martinez si è guadagnato il ruolo da primo.